Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, sintetizza così l'incontro di ieri con il primo cittadino di Montesilvano, Ottavio De Martinis, la Regione Abruzza ai vertici di Tuva, sull'opera attesa da decenni, già costata milioni di euro, che il Tarra ha di fatto congelato accogliendo la sospensiva chiesta ottenuta dal Comitato Strada Parco Bene Comune. Ci sarà una verifica sulle osservazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale Amministrativo per valutare come superarle, spiega il primo cittadino, annunciando il ricorso al Consiglio di Stato che sarà presentato nei prossimi giorni. A Pescara arrivano 100.000 auto da fuori, di cui 40.000 da Montesilvano, dice ancora Masci, con la filovia si creerebbe un percorso pubblico a zero impatto ambientale, risolvendo il problema dei rallentamenti dei bus su Viale Bovio e Viale della Riviera, specie nei momenti di punta. Ostinarsi nel mancato ascolto delle istanze civiche pluriennali confermate dalle decisioni assunte dal Tarrabruzzo, replica il Comitato Cittadino che ha presentato il ricorso, non porterà nulla di buono al benessere complessivo dei pescaresi.